Il leader nordcoreano Kim Jong-un è tornato ad apparire in pubblico dopo quasi tre settimane lanciando uno dei suoi più forti attacchi retorici contro Seoul. La Corea del Nord è pronta a mobilitare le sue forze di deterrenza nucleare in qualsiasi momento, ha detto il leader nordcoreano, attaccando poi USA che starebbero spingendo le autorità sudcoreani in uno scontro suicida con il Nord. Pyongyang negli ultimi mesi ha testato missili personici e missili che potrebbero trasportare armi nucleari tattiche di notevole precisione. Grazie.